Ciao a tutti, eccoci qua anche questa sera. Siamo alcuni componenti del Coro Arcobaleno. Felici di unirvi a voi in questo appuntamento della preghiera serale. Questa sera meditiamo il mistero della discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amén. Tutti erano assidui e concordi nella preghiera. Insieme con alcune donne e con Maria, la Madre di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento, che si abbatte Gagliardo. E riempì tutta la casa dove si trovavano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto del frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Apparvero loro come lingue di fuoco. Che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. E cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Si trovavano allora in Gerusalemme, giudei osservanti. Di ogni nazione che è sotto il cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri undici, parlò a voce alta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Pentitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Coloro che accolsero la sua parola furono battezzati. E quel giorno si unirono a loro circa tremila persone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. L'aspiranza non dilude. Perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi. E che avete da Dio. E che non appartiene a voi stessi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amén. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del cammino, sempre sarà con te. Vieni, oh Madre, in mezzo a noi. Vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te, verso la libertà. Benediciamo il Signore. Benediamo grazie a Dio. Con questo saluto si conclude la nostra preghiera. L'appuntamento è per domani sera, alla stessa ora. Ciao a tutti. Grazie a tutti.